Ciao a tutti, oggi parlerò dell'Holodomor, il famoso genocidio in Ucraina perpetrato dal regime di Stalin. Nella lingua ucraina non esisteva un termine per indicare genocidio o sterminio e fu cognato quindi Holodomor, un nuovo tipo di sterminio pensato tra le molte tipologie del Novecento, secondo lo storico francese Bernard Brunet. Quando la rivoluzione bolshevica incluse l'Ucraina, dopo la breve parentesi dell'occupazione austro-tedesca della regione, dopo la pace di Brest-Litovsk del 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, agli occhi di Mosca l'Ucraina era ancora il granaio dell'impero zarista. I contadini ucraini quindi vennero costretti ad aderire ai Kolkots, le fattorie collettivizzate dello Stato, mentre le loro terre vennero confiscate e gestite direttamente dal Partito Comunista. La fame e le requisizioni attuate dal governo di Mosca, anche per ritorsione, provocarono la morte di milioni di ucraini. Questo genocidio fu possibile grazie alle autorità sovietiche che erano indifferenti alle naturali variazioni di produzione e mantenero altissime le requisizioni, circa il 20%. Tra il 1929 e il 1933, le collettivizzazioni forzate della terra dei contadini riguardò circa due terzi degli appezzamenti, provocando quindi la morte di 5 milioni di cittadini sovietici, di cui 4 milioni erano di nazionalità ucraina. Si registrarono quindi numerosi casi di epidemie e cannibalismo locali, tutti fatti di cui il governo sovietico e il dittatore Stalin tennero un bilancio preciso. Quasi la metà dei morti furono bambini. L'olodomor quindi fu di fatto un grande sterminio, più o meno pianificato, secondo solo all'olocausto ebraico, ma che a differenza di questo cadde per 50 anni nell'oblio storico, quando finalmente, alla fine degli anni Ottanta, Gorbachev rivelò altri crimini perpetrati dal regime di Stalin. Proprio in questi anni, nel 1986, uscì il saggio Harvest of Sorrow di Robert Conquest, in cui si accusava deliberatamente l'Unione Sovietica di genocidio verso gli ucraini. Di questo avviso fu anche lo storico italiano Ettore Canella che parlò addirittura di genocidio sociale. Nel 2003 la Federazione Russa, gli Stati Uniti e l'Ucraina firmarono una dichiarazione congiunta che riconosceva l'olodomor come tragedia, ma non come genocidio.